Secondo me ci siamo persi. Non ci siamo persi. Ogni pista è segnalata da un suo tumulo di pietre. E questa è la nostra pista. Certo, se avevo ancora il mio orologio... Ancora, Paolo. Se avevi ancora il tuo orologio non avevamo le nostre biciclette, quindi... E quindi... Se io non conoscevo voi avevo ancora la mia macchina. E non stavo qua. Ma vi rendete conto dove siamo ragazzi noi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente persi. Non ci siamo persi. Sicuramente persi, cercando un posto che non sappiamo neanche che posto è. Dove forse ci sono i due stronzi. Ma dico forse. Sulle indicazioni di un dentista. Tedesco. Albino. Drogato.